la prima sfida squadre tra gli studenti delle scuole di Ateneo. Nei giorni scorsi è stata la volta della sfida tra gli studenti della scuola di giurisprudenza. Sono state tre le squadre composte da giovani giuristi che si sono sfidate per decretare la squadra migliore che si è giudicata la finale. Vincitori sono stati i ragazzi del team, i perlingeri, presenti anche il rettore Unicam Claudio Pettinari ed il direttore della scuola Rocco Favale. Ora non resta che aspettare la squadra che uscirà vincitrice nella sfida tra gli studenti della scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute. Poi l'appuntamento è con la finalissima in programma Camerino per lunedì 7 maggio.